magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale come promesso nel video di questa mattina sono qui per portarvi i centrocampisti e gli attaccanti low cost di fanta club per questo mondiale quindi mi raccomando voglio una montagna di like perché c'è un bug di listone straordinario ero anche indeciso se tenermi questo nome solo per me perché faccio anche io dei fanta privati con fanta club però ho deciso di renderlo pubblico per tutti voi iscritti al canale quindi mi raccomando like iscrizione al canale e andiamo a vedere subito questi nomi vi ricordo però prima di cominciare di andare a vedervi tutti i video che sono usciti questa mattina come vi dicevo sono usciti portieri difensori sempre low cost sempre per fanta club sono usciti video su gazzetta ho portato tutti i rigoristi di questo mondiale andate a darci un'occhiata e seguitemi anche su instagram perché pure la escono dei low cost sempre per questo fanta mondiale allora anche qui non vado a commentare magari the bro in avers di maria agnabri questi giocatori qua che costano tanto perché sono i migliori che si potrebbero andare a prendere al centrocampo anche ci sono dei bug pazzeschi come ignabri però voglio andare a portarvi dei low cost che potrebbero servirvi per riuscire a completare diciamo la vostra la vostra squadra il primo nome che ancora tanto proprio lo costo non è comunque è un livello basso e valverde giocatore del real madrid gioca nell'uruguay è un talento veramente straordinario anche lui è uno dei giocatori che ho preso alle euro leghe veramente a qualità stratosferiche quindi si potrebbe pensare di prenderlo visto il costo non non proprio proibitivo il secondo nome è quello di luca modric che sicuramente sicuramente conosciamo tutti sicuramente sarà rigorista in questo in questo mondiale e costando solo 16 crediti ci si può fare un pensierino poi poi scendiamo l'altro nome a 15 crediti e musiala allora su di lui ho letto che non è sicuro titolare nella germania io onestamente trovo delle difficoltà a non vederlo nell'undici di partenza questo è un giovane dalle potenzialità assurde ma già si è imposto anche al bayern monaco quindi non lo so per me sarà un titolare poi magari magari mi sbaglio magari sarà un subentrante però è un giovane con delle qualità impressionante quindi io me lo aspetto come uno dei possibili delle possibili sorprese di questo mondiale sempre a 15 c'è blasic lo conosciamo benissimo perché gioca nel campione italiano anche lui non è sicurissimo titolare però con le qualità che ha e con quello che sta facendo vedere anche al toro su me potrebbe essere un giocatore interessante anche in chiave in chiave mondiale ora andiamo su un giovane che a me intriga veramente tanto ed è bellingham dell'inghilterra è un è un giovane anche lui con delle qualità fuori dal comune è uno di quelli che a 13 crediti per me va preso assolutamente e qui diciamo anche come titolare si può mettere tranquillamente per cercare ovviamente di far quadrare i conti per per riuscire a fare una squadra perché tantissime volte è quello cioè la cosa più importante al listone e far quadrare i conti perché i giocatori forti basta andare su e ce ne sono tantissimi mentre riuscire a pescare i giocatori che costano meno che possono rendere bene è quello che fa la differenza poi scendiamo scendiamo un pochettino allora a 11 crediti non è qui ma è qui c'è una vecchia conoscenza il il buon rodrigo depol un giocatore che sicuramente quest'anno ha reso non ha reso bene però l'argentina e l'argentina e poi in nazionale può cambiare veramente tanto quindi per quei crediti che dobbiamo spendere c'è 11 io lo metto lo metto all'attenzione di tutti voi assolutamente poi poi andiamo andiamo ancora a scendere ora qui do meno notizie se no il video durerà 30 minuti l'altro nome è casemiro a 10 perché dovrebbe essere titolarissimo in questo brasile anche solo per i buoni buoni voti e qualche gol potrebbe portarlo tranquillamente a 10 può essere veramente un affare poi a 9 vi porta l'attenzione bruno di maraes del del brasile su di lui potrebbe non esserci la titolarità dovrà giocarsi il posto però ha fatto finora benissimo e quindi voglio lo menziono poi deciderete voi se puntarci o magari aspettare la prima giornata e vedere se poi parte dolare se subentra ecco però lo voglio portare lo voglio attenzionare l'altro nome sicuramente a 9 sempre è kamada giocatore molto interessante che sta facendo benissimo quindi è vero che gioca nel giappone però è anche un possibile rigorista quindi occhio veramente io vi porto tutti i nomi e poi ovviamente decidete voi cercate anche voi delle informazioni su questi giocatori e decidete chi andare a prendere al posto di altri magari sempre a 9 ho menzionato rabbio menziono rabbio perché alla fine nel campione italiano sta facendo benissimo quindi sicuramente in una francia che è una delle candidate a vincere questo mondiale può far bene anche perché ricordiamoci è vero che rabbio in italia tolto questo campionato non ha fatto bene però in francia questi gol li faceva e secondo me anche sfruttando la diciamo questa scia di di ritrovato entusiasmo di rabbio perché se fai così bene porti l'entusiasmo anche nazionale è un nome da attenzionare per questi pochi crediti che sono nuovi poi scendo tantissimo ora qui non andrò neanche a trovarli qui nel listone ci sono allora minamino a sei crediti che è un possibile rigorista poi sempre per la panchina vi segnalo zurkowski cinque crediti che potrebbe giocare zaleschi solamente tre crediti e sabiri nel marocco due crediti ora è vero che sabiri non ha fatto bene alla sam però nel marocco da titolare o da subentrante il voto potrebbe portarlo per la panchina può andare anche più che bene vi invito a lasciare like perché sta per arrivare il bug di listone quindi mi raccomando qui voglio una montagna di like ragazzi perché sono stato anche molto altruista perché potevo tenermelo per me questo nome invece ve l'ho portato allora davanti vi segnalo solo cinque nomi non ne ho portati tantissimi allora il primo sicuramente è vinicius perché diciamo che rispetto a i top attaccanti costa un po meno 32 crediti quindi lo voglio portare il brasile sicuramente una delle nazioni più accreditate per vincere 32 crediti secondo me non sono tantissimi quindi lo vado lo vado a segnalare secondo nome anche perché l'altra riflessione ragazzi che faccio è questa qui cioè se voi avete tanti crediti prenderete tre top tre top davanti tra quei cinque sei sette nomi tra quelli ne ci vedete tre e li metterete e li metterete in campo mentre se magari avete dovete risparmiare qualcosa perché i crediti sono pochi allora già un vinicius che vi fa risparmiare quei 12 13 14 crediti potrebbe essere una buona alternativa l'altro secondo nome è leao rafaleao costa 28 crediti e anche lui potrebbe essere un'alternativa ai top sempre per per quei listoni in cui ci sono pochi crediti poi vi segnalo un altro giocatore che potrebbe essere interessante a 21 c'è david del canada è vero che non è una nazione come dire tra quelle favorite però essendo essendo probabilmente rigorista anzi sicuramente rigorista è uno che i gol li sa fare lo metto lì attenzionato poi deciderete voi un altro nome che costa poco secondo me il rapporto di apprezzo può essere ottimo è orsic della croazia e ovviamente l'ultimo nome il bag di listone allora orsic 16 crediti solamente sicuro dovrebbe essere titolare nella croazia quindi lo porto perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo ma il bag di listone chi è recosta chi è e sta arrivando perché credo che in pochi lo avevate notato anzi devo dire che gli abbonati che mi hanno mandato le loro come dire la loro formazione che che vorrebbero fare nei fanta privati negli istoni privati e nel e nel fanta recosta non l'avevano messo e chi è ragazzi nunez dell'uruguay a 9 crediti ora cioè che poi la cosa incredibile è che lui dovrebbe essere sicuro titolare nell'uruguay perché potrebbe non giocare o su aretz ma diciamo quello maggiormente accreditato a fargli posto è proprio di soncavani quindi io onestamente in vita mia non avevo mai visto un bag di listone come questo cioè l'attaccante del liverpool un giocatore non è che lo scopre adesso recosta però vederlo lì a 9 crediti onestamente mi ha fatto saltare dalla tesi come nunez dove crediti ma in quale in quale multiuniverso quindi non potevo fare a meno di farci un video infatti l'ho detto in tantissimi video che c'era questo bug di listone e ditemi nei commenti ragazzi cosa ne pensate se l'avevate già scoperto e magari volevate tenerlo per voi ecco fatemi fatemi sapere perché secondo me una cosa del genere non so a quanti è capitata devo dire a me non è mai successo di vedere una cosa del genere poi ragazzi non è detto che farà il capo cannoniero che farà chissà quanti gol però noi valutiamo il rapporto qualità prezzo e qui siamo a livelli veramente massimi bene ragazzi se il video vi è piaciuto un grandissimo like iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi